Giocare con Wilkinson, con Guito, con Havana, con questi giocatori qua Vedi delle cose che comunque le vedi tutti i giorni Sai, di un giorno all'altro trovarti con questi giocatori in campo Al tuo lato vedi quanto semplice fanno le cose Però alla fine capisci anche quanto dietro un giocatore come Wilkinson Quanta disponibilità a lui allenarsi Perché io sono rimasto impresso il primo giorno che sono arrivato Quanto lui si allena, quanto è sempre migliore in tutto quello che fa E penso che sia un esempio e per me è veramente un onore averlo di fianco Perché anche avendo io 31 anni capisco che per essere migliore comunque devi sempre dare il meglio E lui è uno che ti insegna queste cose qua Spero che loro mi trasmettono tutte queste cose Anche questa gestualità che hanno Perché anche Guito sembra che tira dei passaggi in un centimetro Sono cose che uno sai, li vedi e poi hai, sai, cercare di chiedere a loro come allenarti Io cosa dare a Tolone? Penso che, no, spero di dare tutto il mio cuore, tutta la mia voglia E alla fine non sono un Wilkinson, non sono un Guito con tanti skills Però sono uno che cercherà sempre di lasciare tutto E di dare il cuore per questa squadra Come ho sempre fatto con tutte le squadre che ho giocato E spero che sia riconosciuto questo Basta